Ah ragazzi, prima del video, volevo scusarmi anticipatamente se non sarò riuscito a sistemare il clipping dell'audio. Comunque, buona visione! Ciao ragazzi, oggi vediamo... dunque, com'è che si chiama sta cosa? Material Shell, ovvero un'estensione di GNOME, in realtà, non è un desktop environment a sé stante, che però lo stravolge talmente tanto da renderlo irriconoscibile, praticamente. E la gestione dei desktop qui è abbastanza particolare. Su questa barra, che sarebbe la classica barra a cui siamo abituati, abbiamo oltre delle notifiche, quindi il vassoio, insomma, delle notifiche, date e ore e quant'altro. Come vedete, questo è il pannello di GNOME, classico, e qui sono stati aggiunti, insomma, la gestione dei desktop. Ora mi trovo sul più, nel senso che lo clicco, qualora voglio creare un nuovo desktop per l'occasione, ad esempio posso aprire un'applicazione a mio piacimento, qua me ne consiglio alcune, altrimenti posso cercare, ad esempio, console, va bene, che fra l'altro è un'applicazione KDE, quindi, insomma, non è neanche una scelta furba da lanciare per vedere quanto siano belli gli elementi, ma comunque, la questione è questa, lancio le applicazioni, e come vedete c'è un'altra barra in alto, che anche questa ha un'organizzazione a schede con il tasto più, per, non so, aggiungere un'altra, va bene, adesso apro Dolphin, ok, quindi è un'altra applicazione aperta in scheda, come vedete posso fare il passaggio da una scheda all'altra, c'è questa animazione abbastanza fluida, no, in realtà è molto fluida, anche piacevole da osservare, posso anche passare tra un'applicazione e un'altra, con il tasto alt più tab, direi, tramite scorciatoio posso passare da un'applicazione all'altra, oppure anche da un desktop a un altro, ad esempio questo è il desktop su cui ho messo il processo di registrazione dello schermo, dopo vediamo anche cosa c'è negli altri desktop, ma prima mi soffermo un attimo su questa cosa, perché come vedete, se ad esempio qui voglio fare il drag and drop da un'applicazione a un'altra, non è proprio la cosa più comoda del mondo, no, cioè qui non è proprio fattibile probabilmente, per fortuna che in quest'angolo in alto a destra c'è la possibilità di scegliere diverse disposizioni, ad esempio questa qui affiancata dove possiamo fare i drag and drop fra due applicazioni, ad esempio se voglio fare una cosa del genere, ok, mi fa un'analisi, oppure posso fare quest'altra vista qua, che sembra uguale, ma dal momento in cui comincio ad aprire una terza applicazione, andando qui per esempio, premendo sul più e come vedete compare qua una scelta, oppure posso farlo anche, adesso lo chiudo, andiamo ad aprire Firefox per esempio, ok, e me lo apre così, perché questa è la vista automatica, in cui però tutte le applicazioni che apro dopo semplicemente vanno ad aprirsi un po' a cazzo in realtà, nel senso che adesso vi faccio vedere, Kate per esempio, ok, me lo apre 1, 2 e 3, cioè qui comincia ad essere non necessariamente, e allora dici, ah puoi ridimensionare, e allora questa cosa, vedete, il ridimensionamento non è ancora pronto, questo lo rende poco utilizzabile purtroppo, comunque con il mouse possiamo già fare il trascinamento delle finestre, comunque, oppure c'è quest'altra modalità qui, in cui semplicemente finestre fluttuanti, con l'aereo planino, finestre fluttuante, e posso fare quello che voglio, insomma, come un desktop classico, oppure si ritorna qua, insomma, la divisione a schede, La divisione a schede forse è quella più interessante, c'è da dire che nella versione accoppiata qui, vi fa vedere due cose per volta, quindi bash e video, se adesso clicco su Firefox, come passare a un'altra scheda, guardate cosa succede, tiene sulla sinistra il file manager, e sulla destra il browser, quindi se adesso vado su Kate, mi terrà sulla sinistra il browser, e sulla destra l'editor di testo Kate, quindi sostanzialmente questa vista vi sta semplicemente rappresentando un desktop in modalità tiling verticale, però due pezzi alla volta. Comunque un'altra feature che lo rende interessante è la gestione dei desktop e la memorizzazione delle sessioni, e ora vi spiego di cosa parlo. Vabbè, questa è tutta roba che ho aperto in questa sessione, però se mi sposto su questo desktop qui, per esempio, vedete, click anywhere to launch, cioè clicca ovunque per lanciare, su tutte le applicazioni che ho aperto, che sono queste due, oppure quest'altra qua, 1, 2 e 3, tutte quante clicca ovunque per lanciare, comunque io lo metto in qualunque vista. Questo perché queste qui sono applicazioni che avevo lasciato aperte nella sessione precedente, e facendo logout con queste app attive semplicemente ne memorizza lo stato e la disposizione e ti dà la possibilità, facendo click, di riaprirle. Quindi se ho, ad esempio, un certo workflow per cui mantengo, che ne so, una finestra di Chrome in questa maniera qua, il terminale sempre così e il file manager colà, va bene, tutte le volte che io dovessi spegnere e riaccendere, mi dà la possibilità di riaprire le finestre delle stesse applicazioni sempre con la sessione, con la disposizione precedente, ecco. Insomma, è una cosa ancora abbastanza sperimentale, ancora abbastanza acerba, se vogliamo. Ve l'ho voluto portare l'attenzione perché, anche se io non uso più GNOME, so che ci sono molti fan, vorrei sapere che ne pensate. Se fosse più maturo, lo usereste? Vi trovereste bene con un desktop environment che fa sia floating che tiling, basato su GNOME, con la possibilità di gestire tutto come se fossero schede del browser, qui abbiamo le schede dei desktop, tutto gestito a schede, tutto con queste animazioni super fluide, il passaggio, la modalità nuovo desktop che va a creare dinamicamente un nuovo desktop per l'applicazione che vogliamo destinare. Insomma, com'è questo concept? Vi piace? Lo usereste? Io personalmente no, lo trovo un po' macchinoso e forse limitativo, però lo trovo anche molto stiloso, quindi non so, sarebbe una cosa un po' supportatile, magari potrebbe essere una buona idea. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, come sempre, e ci vediamo al prossimo video.